Io penso che a livello di eleganza e di stile di non aspettarmi nessuna indicazione da tutte queste persone. Quindi questo lo dico in maniera molto serena. Ognuno ha un proprio modo di fare, ognuno ha un proprio modo di essere. Se sono poco elegante o se sono stato poco elegante significa che cercherò di andare a lezioni di bonton. Ragneri alla fine dice qualcosa che protrae la discussione. Perché Ragneri cosa dice? Ragneri dice Mi auguro che chi ha alzato la voce non condizioni il designatore d'arbitro. Cioè che significa? Quindi Ragneri...